Il 2% di terze dosi, l'87% di prime, speriamo di riuscire da quattro di anno a cercare di fare qualcosa. E quelle terze dosi quando hanno fatto a Positano? A 22% fino a ieri, quindi con queste di oggi superiamo il 25%. Un'ottima percentuale a livello nazionale. Sì, anche le prime dosi sono fra le più alte dei comuni costieri. Oggi sono tutte terze dosi, 150 terze dosi. Ci saranno altri giorni qua di Natale? Sì, speriamo di fare qualcos'altro compatibilmente con l'arrivo dei vaccini. Però se non cerchiamo di fermarsi, al momento stiamo usando Moderna. Moderna, Moderna, va bene, allora grazie e buon lavoro.